Ciao persone umane che sono sveglia alle 3 di notte! Marco fai pipipi pipipi Come faccio pipi? Ma è un video? Ok Facciamo finta che è un gatto sul micro Ah io ho visto che cazzo c'è stato successo al microcove Cosa va? Allora ancora non è iniziato il countdown Però c'è l'impro Si vabbè però c'ha... Fatto Sette minuti e venti si comincia tipo Salve Ciao Ok Sto sette minuti e quaranta tre Sto guardando sul cliff della square Io sono sette e cinque Dove guardate? L'ho linkato nel gruppo Eh no ok Però io non vedo nessun tempo C'è un basso sinistro Comunque no Non è sincronizzato con quello della super enix live sul canale twitch Ah vabbè Quello fa come vivere il palco Beh noi stiamo sul... Sul canale squalini presents Sì sì ma a noi parte questa e poi abbiamo altri tipo 20 secondi di... Ah vabbè ma qui non sono mai allineati quindi No Quindi devi un po' il vostro tempo Non posso prendere in mano il telefono però Non ti... Grandissimi... Carbi... Carbancol Com'è? Grandissimi Carbancol Allora io non so se ci sarà uno che è passato da seguire questa conferenza Noi? Non gli fosse Probabilmente resteremo a zero spettatori però... Va benissimo comunque Io voglio seguire Sti cazzi intanto noi si seguiamo Beh non c'è tempo state voi? Eh... Beh escevo Sei minuti Un cinque Un cinque Un cinque Un cinque A me comunque non la fa mettere a tutto schermo Eh no ancora no perchè... Ancora non è un... Ma ci sto bene Andiamo... No ancora no Un bella a seconda di ciò che... Un po' diventa... Sparisco perchè diventa nero lo schermo Lel Incredibile Amici voi non lo sapete... Chiari su Smash Ma... Non lo sapete ma nel periodo non collegato Ehm... Dado... Un torfinto e il buon cercello hanno provato... Sì in realtà... L'appena ho provato più Dado e il torfinto Dimmi che ho fatto solito una partita Io Dado si è giocato un bel po' Cioè per quanto andava si è giocato Io alle partite... Cause terze Ho preso in mano il telefono È caduto È caduto È caduto lui No ho preso in mano il telefono Ehm... Ehm... Fatto danna Fatto danna E se voglio usare telegram devo andare su cosa... Io in realtà posso fare questo Non farlo No Cad Io ho appena ucciso una mosca per sbaglio stringendola Io vi racconto questa cosa che... Quando è finita quella della Ubisoft Ho fatto per andare a letto C'era una zanzara Ho preso il DDT Senza accorgermi che era quello per esterni E l'ho spruzzato in camera mia E' stato tipo mezz'ora fuori dalla camera Che non riuscivo a entrare Dalla... Dal pizzo Dai... Ma se hai i ladri napoletani in casa No no Mi è ripartita la sveglia sul... Sul mi band Stavo sentendo la sera partita la mattina sul... Di nuovo sul telefonino Hai un brivido Allora... C'è da dire Ehm... Sì... Io intanto ho il bingo che non ho aperto C'è da dire che... C'è da dire che... C'è da dire che Square... Ha... Annunciato prima della... Del suo... Della sua conferenza La data di uscita per... Per Final Fantasy Per Final Fantasy 7 E qui diciamo che una delle cose che... Vi aspettavo... E' già stata detta Quindi... Ma intanto analizziamo... Quindi ora voglio il DLC di Left Alive Analizziamo il bingo... Ehm... Ragazzi proviamo ad andare su Discord perchè il rumore di fondo di Marco mi sta uccidendo Non so perchè Ehm... Non lo so... Non lo so... Dai io ci sono No... Aiuto... Ok... Ho ucciso Dado... Sì... Eh vabbè vabbè... Ok... Ciao... Salute... Grazie... Allora... Analizziamo... Analizziamo il bingo... Allora... Niente data per Final Fantasy 7... Direi che posso... Toglierlo perchè... No DLC di Final Fantasy 14... Ma non hai messo Avengers... Sei stronzo... DLC gratuito per The Quiet Man... Ok... DLC di Octopath Traveler... Che potrebbero annunciare anche domani... La data d'uscita di Octopath per telefono... Che c'era... Difficile... L'hanno già annunciato però... Non c'era data d'uscita... Eh... L'ennesima Tomb Raider esclusiva per la Next Gen... Ma... Dubito a questo punto si è esclusiva... Perchè di Scarlett si sa veramente poco... Ok... Porting di Octopath su PS4 e Xbox One... Ok... E... Secondo me i più plausibili Xbox One... A questo punto... Poi abbiamo... Eh... Nuovo spinoff di... Life is Strange... La vedo dura... Ehm... Poi c'è... Io che mi addormento durante la conferenza... Ok... Nuovo indie ultrapompato... Tipo come facello The Quiet Man... Sì... Poi abbiamo... Un'esclusiva temporale di Microsoft... Ciao Apone... 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 Guarda... Nessuno di un po' urla... E' fatta... Poi il nuovo DLC di Kingdom Hearts... Ciao Apone... Ciao Apone... Poi abbiamo il tour mondiale dell'orchestra di Kingdom Hearts... Però... Il direct che... Marco... Marco... Ti odio... Il direct che dura tipo 20 minuti... Poi... Spin off free to play... In VR di Final Fantasy... Come hanno fatto con... Indomars... Poi... Un ultracon quest... Senza un cazzo di data di uscita... Ok... Poi... Una collection di Final Fantasy... No... Impossibile... Final Fantasy 14... Che diventa senza abbonamento... Questa è solo la mia speranza... La vita... Sì... Vabbè... Certo... Un sequel di The Quiet Man... Che ho messo solo per memare... No... Un nuovo DLC... Un teaser di Final Fantasy 16... E anche questo posso farlo... Final Fantasy 15 su Stadia... Ok... Poi... Ehm... Nuovo Chrono Trigger... Nuovo Chrono quindi... Ok... No... Ehm... Secret of Mana per telefono... E... Kingdom Mars... Un Kingdom Mars... Uno spin off in esclosiva... Uno spin off insomma... Kingdom Mars in esclosiva su Switch... Come i tempi di... Chain of Memories... Se... Tu parla... Mmm... Ok... In mezzo... In mezzo... In attesa... Allora... Rimettiamo... In attesa... No... Qua mi dice... Mi da sempre la stessa schermata... Eh sì... No... In basso da sinistra... Adesso mi dici in attesa... Cioè... Perché fighi il countdown... Ehm... Controllate su... 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 Su Twitch... Eh... Sto guardando... 26 secondi... 26 secondi... Ok... 29 secondi... Sono le 3... Sì... Squerra... Provo a refreshare... Ehm... No... Credo mi si sia spesso il... Il telefono... Ma dai... No... No... Cazzo... Non ho solo fermo... Quindi forse... Non sono uscito dalla... Mi sembra che... Mi sembra che... Mi sembra che... No... 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 Non mi sembra di averlo visto... Ma... No... È... È uscito... È... È... È fatto... È pronto... Perché non è partito su... Su Twitch... Eh... Su Twitch c'è... Inca... Mi butto subito... Ma questo... Non sa perché... Devo ritagliare di nuovo... Marem... Square... Dai... Perché mi stiamo andando? Dove lo stiamo andando? Eh... C'è qualcosa... Che interessa a mase... Sì... Dove lo stiamo andando Luca? Dove lo stiamo andando Luca? Dove lo stiamo andando? Sul... Sul... Cazzo stai... Facciamo così... Un attimo... Devo sistemare tutto... Tutto di nuovo... Ma se stai guardando... È... È... Il gioco... Quelle piacette... Cloud... Eh vabbè... Sì... Questo è... FF7... Però c'è già la data... Sono già la data... Quindi... Sono già contento... Tanto ritaglio... Eh... Iris... Questo è proprio il... Il filmato iniziale... Di... FF7... Questo è proprio... Ma non è ancora partita... Sendiamo un velo pietoso... Pietoso... Su square... C'è un errore però... Scende prima Barrett... E poi Cloud... Signore e signori... Il remake di FF7... Adesso faranno vedere... Non lo dicono? Esce il 3 marzo... Ok... Sono tornato... Ok... Scusate per... Il casino... Non è sempre... Adesso in 2015... Credo che sia anche... Il film del Jockey Studio... Non ha microfono... Ah... Scusate... ZD... Non mi sembra... Che è stato un urlo... Si invita... Non mi sembra... Che è stato un urlo... E mi sembra che... Con il suo il film... FF7... Si... Non mi sembra... Che è stato un urlo... è più bello e più attivante che prima di più io questo è una cosa che odio ma direttamente che non parla in inglese FF7 siamo stati dicendo tutto tu ci stiamo andando a fangolo tu ci stiamo andando a fangolo tu ma tu italiani di merda non mori tu ti stai dicendo quindi blu-ray 2 guasabi testo 8 64 che la ragazza dietro di me io me la scopro ma? il game design è anche e noi anticipiamo due blu-ray disc e lei però deve tradurre è un pazzito così ora vi vediamo la camera in Tuga ci sono fantasmi di tempo di lui che gli fa ragazzini simbolo scopere vedete apparire roba dall'ombra vedete due blu-ray per aiuto per aiuto i ff7 si realizzano e attivano qualifiché in quale non vi deluderemo Eh grazie, già l'hanno fatto Più di così Non è ancora partita Per i nuovi comandosi che non hanno mai spiegato l'original presentiamo a voi una completamente nuova Final Fantasy E un punto perfetto inizio per esplorare il mondo di Final Fantasy VII Perfetto, benvenuti Neil Pabone Senior Manager Product Marketing, Square Enix Ah, uno che sa fare l'inglese, dai Quindi Neil è qui per l'introduzione e camminare il gameplay Ma vedi questo parla francese Perché era saltato tutto? Perché la Square non sa fare le cose Sa fare i giochi Ah, strategic command ladies E action Ma è come quello originale È a turni l'originale Ah, ok Ma a me non dispiace sta cosa Solamente si sta in realtà Ah, come è? No, sembra figo Solo graficamente non so quanto potrà essere così Aspetta, io carico le barre ATB e che succede? Venti più veloce, ho detto E poi ora sta dicendo Ah, io ti vuole abilità Ok Mamma mia Impara la nostra lingua Quindi è un ibrido Tra l'action e l'RPG Perché se non carico la barretta ATB Non posso tirare Che c'è Le fun Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah questa è una figata Ma se vogliono giocarmi il 13 sono normale Da presti far vedere il fatto tipo guarda chi combatti Sono dei nemici che non puoi raggiungere Allora Quello con il cannone grosso Che figo Ah ok La barra del focus è una cosa che hanno preso da Final Fantasy XIII Ah non hanno messo la stessa animazione per tirare le spell Siccome faceva nella vecchia versione Cloud Cloud nella vecchia versione si petteva la lama dietro alle spalle e poi faceva così Però stai considerando che hanno velocizzato il gioco perché non è più a turni ci sta che non si sia tutta l'animazione Beh no perché cambia animazione ci sta No ma graficamente mi fa un po' azzirà Eh bello Questa è l'esclusiva playstation No no non penso Non penso Non lo so Ah ok affrontano la Lo scorpione Primo boss Ha chiaramente detto usate i fulmini e li sta Sì infatti No ma vedi che fa lo scorpione Si va a mettere sulle pareti Ficissimo Ma ecco il fulmini Ma ti ranzo E poi vedi entra Ok prende il Prende il danno manzo Maggiorato ok Allora mi toglie La preoccupazione che avevo Che sarebbe diventato uno spamming di tasti Invece Diciamo che attaccare Questo è solo un gradiente E un deterrente diciamo del fare danno Ecco allora Questa fase che si vede dove si crea questo Questo schermo protettivo È una modifica del pensiero di base Che era dello scorpione Lo scorpione praticamente si gestiva in base alla coda Se la coda si alzava Ogni attacco che gli tiravi Lui faceva un counter attack Con laser Qua invece gli hanno messo una mega armatura Poi Quindi hanno effettivamente cambiato alcune cose È figo No è una figata ragazzi È una figata Molto figo molto figo Quando è che usciva? Marzo? Sì sì I primi giorni di marzo Comunque sì anche queste tre va tutta l'anno prossimo Eh sì Qualcosina che c'è autunno c'è No Luca ha crashato di me Eh allora hanno detto che saranno due episodi Matteo Il che cioè se fosse confermato non mi dispiacerebbe perché io pensavo sarebbero stati tre Quindi Quanti episodi che escono uno nel 2020 e l'altro nel 2025 Cazzo le sto scazzate web Eh vabbè No no lo so Che non rientro e lascio così E' tutto qui Cioè nel senso facciamo una solo senza episodi Eh sì 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 my God Mamma si dubbito anch'io Sto ansendo pazzo qua figo Queste queste mini cats in di mezzo Ma vedi adesso c'è la vita anche sui pezzi sui so pezzi di tipo le gambe Fai in the hole Adesso ci va a vedere la Dai fammi vedere la limit Non mi fa vedere la limit break veramente Eccola Limit break E ragazzi Cosa? Si vedete quanti durerà la conferenza Penso un'oretta Si penso anche un'oretta Ok sono tornato Questa era la limit La sia da prima Quella prima Cross slash E allora me la sono persa Tanta roba C'è una differenza Quando attivi la bomba Dei 20 minuti La boss fighter è inclusa C'era il timer Invece qua Perché la musica di Sephiroth E c'è Nomura Per Kamalvash Cattivissimo Questa è la mia Questa è una cosa Questa è la mia Questa è la mia ma è tutta fruffenanzante è un pantaloncino davvero dai ho scappato di casa mi hanno ripreso dal netto ma tra tutti ci sembra la mia maestra di italiano ma perché c'è lì per il quadernino perché gli mette il voto poi non mi raccomando non mi raccomando ok dai cioè dura il doppio perché c'è un regno non mi raccomando non mi raccomando io qui tocca a te tocca a te parla la nostra lingua quindi prima di tutto vogliamo dire che la nostra impara l'inglese per tutti quelli che ci sono aspettando così attenzione e che ci hanno supportato per così tanto tempo e anche abbiamo avuto un'ottima guardare il gameplay si si quelli ci sono sempre reddo 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 nooo io non diventi questo io non diventi io non diventi quindi abbiamo avuto un'ottima quindi abbiamo avuto un'ottima demo kiosk disponibili quindi spero che avete l'opportunità di provare che 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 non è che 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 ci che tornare che 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 Oggi vi mostrivi una versione corta di un trailer al concerto di Final Fantasy VII, ma oggi abbiamo una versione più lunga. Mi sto dicendo? Spammano roba. No, ho letto una cosa che non so se posso dire. L'Eblition. Eh, potremmo dire cose, Marco, ma è spoiler. In realtà lei è Marco Shell Shell. Ah. Cosa hanno? Una versione più lunga che cosa? Di un trailer che hanno mostrato l'ultimo concerto di Final Fantasy VII di ieri. Sai che mi sa che del pink non ne becco mancuno. Adesso esce. Potrebbe uscire il logo del gioco. Deve fare il logo del gioco e poi focus sul treno. Ma invece siamo già al reattore Marco numero 6. Reattore di Scenno. Pronto. Questo invece è il capo. per salire la mia vita. Alcun. Questo è nuovo. E' una tipa della materia cosa? La avalanche. questo fondo ce l'ha battuto comunque si può togliere perché hanno eccolo ci ci sta cc vicino alla rotellina di impostazioni a che punto siete voi con ieri che ha tirato una roba a eric è quello col mitrone no a eric è la latina così noi vedo una bambina ok queste marlene questo piscio questo e quelle tifa a contese che mi sono fatto ai mutati quando soffi il naso il mio cuore si ferma ogni volta facciate che su tutto per qualsiasi cosa e bevo e tifa c'è sempre l'idea di esultare credo sia compreso nel biglietto guarda la guarda la tifa è perfetto per questo tipo di combattimento perché ti racconti va a cazzotti questo è l'ingresso della alla come si chiama la maco ah dolfin spin sta facendo da vedere dai però questo è un boss anzi questo è il secondo boss e vabbè ed eccolo e vabbè eccolo se vi rotto ragazzi non so perché tizio da tizio quindi mamma mia ho i brividi ma beato te che non sei niente 3 marzo però non hanno detto episodio 1 eh eh questa cosa non hanno detto episodio 1 ragazzi questa cosa è tutto è tutto eccolo qui questo è quello che ho visto io il collector ma questa ce l'hanno fatto direttamente no raga è tutto un episodio non c'è scritto in nessuna parte episodio 1 eh può esso c'è un tizio che non mi metti traf da si quattordici con che squadra è cos'è sta davvero la fi strange la grafica si la fi strange qualcosa si x la fi strange 3 è la fi strange no sono i personaggi del guarda guarda ha fatto il chip il chip ma è il 2 ah capace pizzeranno ma quello è malcomerrino ma quello è malcomerrino c'era era coso ehm jackseptica c'era no no non dovrei fare questo si 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 infatti che cazzo fate io io definitivamente dovrei non vederlo perché non l'ho già fatto anche io questo è marcomerrino questo tipo uguale ah che bello un cane che morirà prima della fine del cazzo non 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 ho capito non 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 ho capito non non ho capito ragazzi non ma non 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 ma non non Era un giocobo Lado Lado Cos'è? Queste cose Aspetta Non avevo mai immaginato che sia così brillo Crystal Chronicles, ma l'hanno già annunciato uno su Switch, mi sembra Sì Credo Ma hanno detto che ci sarebbe stato in multiplayer online Mi sembra telefono Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Questo winter, embark on a new journey once more C'era già visto in un direct, mi sembra, non intendo dare Eccolo Uuuuh Che bello che è? Sì Ah, è al canso di tutto Beh, questo è tanta roba Viva quanto te lo invidio Questa mondo è piena di misteri Preparati te stesso! Non lo farò a te! Non lo farò a te! Non lo farò? Non lo farò a te, ma non lo farò Non lo farò a te Non lo farò a te Eccolo Questo è veramente bello come c'è il PC ragazzi Io appena posso me lo prendo Allora Allora Appena posso me lo prendo Assolutamente E, sono sincero a me è dispiaciuto che sia uscito su PC Sì anche a me Ok Si sapeva... e quindi? Ma è stato uscendo pazzi? Quindi? Fateci vedere che è uscito Final Fantasy 1 su NES, non l'ho capito? Eh, perché no? Ma è Xenoblade? Non è della Square Cosa sta roba? Ma no, ma perché non... È Metin3 Metin3 Last Remnant? Last Remnant? Last Remnant L'ho mai giocato, non l'ho mai giocato Sta a 2€ su Steam, ragazzi Post Ah, su Switch Su Switch Su Switch Su Switch l'avevo... Disponibile adesso Si, intanto non è adesso però Si ma non sto capendo Io non sto capendo Io non ho capito gli annunci di Octavus Sì Di Life is Strange 2 però va bene Ah, Dragon Quest Builders 2 Già annunciato da tempo Ah, sì Mi sembra sia già uscito in Giappone o sbaglio Non mi sa di nooo A me non è dispiaciuto Last Remnant Vabbè che però ho giocato una vita fa A me Builders... A me Builders... A me Builders... Io Builders ho giocato un po' il primo E mi era garbato un bot A me non è spira a vedere Guarda quanto Toriyama c'è in Dragon Quest È Super Saiyan È Super Saiyan Quei ragazzi Sì, sono Goku e Radish Sì Sì, è uscito a dicembre in Giappone Esce a Luglio qua Ah, ok E allora sì Perché a me non era dispiaciuto Sembrava figo il sistema di combattimento Non so, a me non... A me non... A me non è spira Non è un botto Ci fosse Iron, sarebbe tipo hyper contento Tutto in Dragon Quest Builders 2 È molto, molto bigger Build huge structures in a larger world With more variety and options Than ever before And with a little help from the eager islanders The world is humongous And you'll need your wits about you to get around Run across open fields And explore ruins Treacherous minds And speckle Io vorrei annunciare solo un nuovo Dragon Quest Mostre Dive into the watery depths Ehm... Consento che è l'unico Dragon Quest che ho giocato Quindi... LOL Eh, non ho giocato gli originali Giocato di spin-off Ah, beh tipo ragazzi Avete un sacco di spence da fare Tss Eh, non so Ho provato a giocarne uno Ma non mi è... Sì no, è Goten Super Saiyan Sì Sì L'adressione è proprio per me Un aggressivo amnesiac With a fondness Per combattere Vole Usei potenti attacchi sulla battlefield To take down Monstrous beasts Sì però Non fateci un quarto d'ore dei tre Nessun gioco c'è uscito Vai Ok E siete ieri E Harvest raccogli Ok E Harvest raccogli Ok Ma c'era un gruppo enorme Con un cappello Con un cappello Ah vedi Fa una cosa molto da Legend of Zelda Qui ovunque Sì Unisci Sshh 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 E' Minecraft Sshh Sshh Con dei Dei remetterebici veri Ho già Minecraft Io quindi Sshh 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 11S, perché la lezione su Switch è la ruota di tutto il vero e avrò misericordio al nostro realm! Nooo! No, aspetta. Devo giocare in 8-bit tutta la vita. Questo lo prendo sicuro. E' bene. Sì, 11S. Cosa? Sono l'illuminati? Sono l'illuminati. Lo puoi giocare anch'io, cazzo. Ma sto moda potrebbe essere... Ah, quindi ho fatto ora tutto Dragon Quest. Lo Switch tra i vari trailer stanno utilizzando record keeper di Final Fantasy. Fai la frase del record keeper. Eh, qui parla dell'accommoni, sì. Questa è roba indie. Fate vedere The Quiet Man, per favore, fatemi vedere The Quiet Man. Ma Ben, devono presentare Avengers. The Quiet Man! Lo sto vedendo. Oh my God. Sì, fatemi vedere. Cos'è Boundless? Non l'hanno fatto vedere. Chissà perché non l'hanno fatto vedere. Ma Square che fa un FBF. 2020? Cosa? No, macchine. Square. Carlo Mastrotta. Carlo Mastrotta ha detto. Eh sì. FIARFX, quella versione lì, può essere, anche se il FIARFX tutto originale non è l'amato. Adesso, puoi guidare quasi qualsiasi tipo di auto, su ricreazioni fantastiche delle migliori tracce del mondo. Allora, avremo il tempo per provare qualcosa di diverso. Vogliamo fare questo per evitare un stile che pionnero i giocatori di raccoglietti anni fa. Il nostro gioco fa il top-down raccoglietto, con un giocatore di arcade e la fisica di raccoglietto. Il nostro gioco fa il gioco di raccoglietto. Mi piacciono i giochi di macchine in top-down. Ehm. 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 Però fatevi vedere qualcosa. Oh. Sembra divertente, però. Sembra carino. Sì, un giochino. Un circuit supercar, star supercar. Vabbè, una roba molto semplice, insomma. Sì. 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 C'è COD. Se vuoi giocarti uno sparatutto spendi COD. Fine. o Battlefield. Farne uno indie. No, più che altro sembra veramente un gioco del 2012. Sì. Sì. È molto vecchio. È proprio vecchio. È proprio vecchio. Call of Duty 2. No. Un pochino migliore. È un pochino migliore. Mh. Oh. È un pochino migliore. Ehm. si può dare free to play guarda, se fosse free to play diciamo, in tentativi voglielo si può anche dare non a me può essere free to play vista la qualità ma guarda, se ci fosse free to play beh guarda, un bel deus ex non l'ho detto for free ma available now, se non l'abbiamo preso fino ad ora non l'abbiamo grand ex music costa 16 euro proprio pensare madonna che sono andati da questi cazzo su spotify mettono le colonie tonale di square si le hanno messe già un paio di giorni fa te l'ho detto sono impazzito non me lo ricordavo io ne conosco tre due quattro di cos'è bili bili sei ignuta e non la pari che devi annunciare alle tre eh ma questo è il dlc di remind ci sta il master of masters che parla con un giovane xehanort qua dice una cosa interessante xehanort dice in modo particolare ho capito che sono quanto sono necessario vabbè puoi giocare come riku aqua e roxas e nello specifico stanno facendo vedere le boss fight finali e questa è quella era la boss fight finale e qui poi c'è un dialogo tra xigbar e ehm mannaggia la miseria questo cormugacchi si chiama ehm non zexion si chiama vabbè tanto me lo dice adesso luxord luxord esatto e questo è il remind mi sta bruciando un occhio tantissimo che non c'è niente di quello che ci si aspettava però e vabbè shadow bring è stato terzo dlc terza espansione per final fantasy 14 oh questa l'ho beccata dato io apprezzo di stannare questo eh si ma 3 2 3 3 3 3 2 3 1 time pay compri il gioco fine che io ho già comprato due volte io ma io io ho a totorello sono d'accordo ma più che altro ha dato la stessa carta anche a a xivar come dice i'm going to play dumb for now quindi sa qualcosa è stato è stato in its history before the launch of shadow bringers this is all thanks to our players our warriors of light grazie grazie and there are so many new elements in the game for those who have yet to play final fantasy 14 including two new jobs the gunbreaker and the dancer as well as two new playable races the frothgar and the veera we are excited to bring shadow bringers as the latest installment in the final fantasy franchise for our fans to enjoy at least until 2020 march 3 when final fantasy 7 remake comes out i can't help from anyone because they're not sure they make not to be sure the exterior of the launch of the launch of the new game we are pleased to bring the launch of the trailer Non fammi rientrare nel tunnel, non ce ne saranno teso. Dado, se dicono che non c'è più l'abbonamento, io cancello teso adesso. Sì, subito. Se non ci sia più abbonamento, non c'è anche io. Sì, ma dubito. Ah, no. Sei anni. No, 2012 c'avevo la close beta. Su PS3. Di Ariadne Reborn, no? No, è 2013. Quindi sono sei anni. Beh, oddio. World of Warcraft ha ancora l'abbonamento con inserio, sì, nel 2002. Eh, vabbè, World of Warcraft. Grazie. Sì, però World of Warcraft è... Sì, ma scusate, mi scusate, mi devi venire. Mi ha svegliato, Marco. Tutto bene. No, no, va bene. Ci stiamo per vent'altro. World of Warcraft continuano più o meno ad aggiornarli, ma è un nuovo mondo che è cresciuto secondo la preguerina. Sto piangendo. Sto piangendo. Sto piangendo. Sì. Quanto brazzo è il mio, non avevo dito. Questo ci è. Ma devi essere sempre con me. Vivi in il mondo. Vado. C'è variato. Sì. Non farmi spiegare soldi che non ho tu. Ma una pistola, come fai? La... la Gunblade dato di Final Fantasy VIII. Ho visto, ma... Ho visto. Peccato che io, il PG che stavo giocando, come primo primo gioco, è un Dark Knight, quindi... Madonna, le ammazzo tutti se non tolgono il cazzo di abbonamento. Noti che è un gioco gioconese quando c'è un sacco di personaggi con le tette. Esposte, per giunta. Non conosco questo boss, è tutta una roba nuova di FFXIV, allora. Sì. 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 C'è oggi c'è? Oddio c'è? Eh.. Di highlight? No non ha senso. No. bounds. cavolo.. non sembra davvero tanto. Sì. Sì. è di light. Perché è qui? Sì. Sì. È square di light, ma non ricordavo questa cosa. anch'io non ricordavo. Guarda, è fantastico. È evidente quando lo square ha detto assassin creed. beh la meccanica del parkour sai quanto vomite? è il parkour in prima versione da sbrazzo mamma mia questo con un visore è vomito questo ha preso veramente le meccaniche il mirrorede mamma mia che comunque non è square che cazzo sto vedendo non è square ma forse l'ho acquisito ma basta fare riprese con le facce della gente dai mi fai di una roba sul record chipe per il cellulare che vuoi fa? fai vedere Avengers vedere Chocopo Dungeon oh Chocopo Dungeon no cosa sei? ah è di nuovo hai sentito? romancing salsa non lo conosco hai sentito? eh ma mi intriga una cifra no ma no eh beh sono c'è gli RPG vecchio stile che cazzo è di nuovo? che cazzo è? che cazzo è? che cazzo è? che cazzo è di nuovo? perché non l'ho mai sentito neanche nominare questo qui proprio non l'ho mai sentito nominare mai e cosa è sentito? Brave Exovus ha superato 39 milioni di soldi Sì sì Sta carino! È un GFG Sì Ho avuto un numero per telefono War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius Questi due titoli, FFBE e War of the Visions Sì, a me non sono male, i giochi mobile di FFG Non sono affatto male Questo, Mobius Record Keeper Un nuovo continente che sta mettendo in mezzo Ve lo consiglio Brave Exovus Però è... Ah! Mi sono preoccupato, penso a forse il War of the Lion Di fare una fredda di Tactics 1 Oh no! Leonis è una delle... Delle famiglie di... Di... del primo Tactics Carina quella dei Tori Il ship Dov'è? Dov'è? Dov'è là? La ragazza dov'è? Ma se... domani esce l'host in Tokyo Fargo! Domani esce l'host in Tokyo Ma se... domani non riesce vicerlo Eh, tanto lo so E' la... Vedi, è la... è la... è la... è la Tactics E' una roba da genere su mobile E' lì Grazie E' la procedura E' la volta che hai visto Ah, ma vedi Grazie a tutti 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 Apple Canfly ha lavorato anche a Fortnite Grazie a tutti 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 Cosa? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Thor Niente Grazie a tutti Nessuno Grazie a tutti 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 Questo è quello che è prossimo per gli Avengers Grazie a te veri creditori Grazie almeno di dire la data Che dice Luca? Entro quest'anno, l'anno prossimo Ehi, questo non si sembra pronto Come on Tony, vivi un po' Cosa? L'ha ridotto E' particolare il film Sì Ok, ci farà anche film 15 maggio 15 maggio Ok Da quant'è che lo hanno iscritto a sto gioco? Questo non lo saprei mai Quindi è finito No, no, l'ha detto E' troppo Ah, è finito Forse è una sorpresa finale C'è scappa Oninaki mi ha detto tantissimo Sì No, è finito Tirando il pendone Oh, io non so Io sono schermo Magari Secondo me c'è altra roba No È finita con questa Nulla È stato bella piena Sì Sì Ma io penso che la roba che mi abbia Poca roba Con molto di più Si è il fatto che FF7 Non ne ha episodi Ah sì, no FF7, scusa Ressaranno due Blu-ray Io aspettavo Avengers Ovviamente è stato l'ultimo Perché sono stronzi E boh Ho più domande di prima Poi io non ho capito Un paio di cose che hanno fatto dire Tipo Octopath Traveler Sì, quella cosa è Life's Strange 2 Life's Strange 2 Da quanto che c'è? No, non troppo È l'ultimo capitolo L'ho scritto poco fa È l'ultimo capitolo È capito Ma alle tre Fai vedere una roba che è già uscita? Non lo so Se tu avessi dovuto riempire dei buchi C'era bisogno No È durata un'ora È passato È intrigante l'espansione di Final Fantasy A me ispira quella Purtroppo Un paio di più nuove Che non ci aspettavamo È anche le tre Della roba che era esclusivamente Orientale Che arriva in Europa Ma anche le tre Degli attori Vabbè, sì Però dico Cominciando da Microsoft Che ha fatto vedere Che arriva a Fantasy Star All Night 2 Sì Sì, sì Perché ci butta Sti altri due titoli RPG Che al momento per me Sono proprio oscuri E anche io Non c'è stato tipo L'abblamento Ma che ho installato Adesso Di The Scrolls Pure io E nulla E quindi boh Può darsi che tanta roba Che esclusivamente Giapponesi Arrivi in Europa Non così tanto Anche roba che vogliamo da secoli Tipo Che ne so Monster Hunter Frontier O L'MMORPG di Dragon Age Sai che figata Minchia Non lo so Nulla amici Io vi ringrazio tanto Per averci fatto compagnia In queste 4 e 20 di notte Con molta dedizione Alle nostre stronzate Noi vi salutiamo Vi ricordiamo che domani Domani Il covering E3 Non è ancora finito Domani c'è Nintendo Alle 18 Alle 18 E poi Torneremo a fare live Dove giochiamo Ma forse Prato di Nintendo C'è un'altra live Io lo so Non so se devo studiare Vedremo Ciao Buonanotte Buone botte E buona settimana